Diversi automobilisti hanno chiamato in questi giorni la nostra redazione per segnalare dei disagi al traffico veicolare in via Galliano, angolo via Umberto, direzione via Fonte Canali a Favara. Dalle segnalazioni gli automobilisti evidenziano come, imboccando la strada che passa dalla rinnovata Fonte Canali, improvvisamente la stessa è sbarrata da una transenna. L'impossibilità a proseguire quindi porta gli automobilisti ad effettuare complicate manovre di inversione che specie nelle ore di punta provocano degli imbottigliamenti. Come nostra consuetudine abbiamo voluto verificare le segnalazioni chiedendo spiegazioni anche al locale comando di Polizia Municipale. Da Piazza Don Giustino ci hanno confermato prima telefonicamente e poi inviandoci un Vax che in zona vige dallo scorso 5 giugno un'ordinanza di chiusura al traffico sia veicolare che pedonale. Interessata dal provvedimento la via Fonte Canali dal civico 27 al 31. L'ordinanza numero 112, protocollo 25-196 del dirigente del terzo dipartimento comandante Gaetano Raia, si è resa necessaria a seguito dell'ingendio di settimana scorsa del patiscente immobile ubicato all'angolo di via Fonte Canali con vicolo mossuto. Le fiamme, infatti, avrebbero notevolmente compromesso la giallabile struttura. Il tratto di strada resterà chiuso fino a quando non verrà messa in sicurezza l'area. Per evitare ulteriori disagi, probabilmente sarebbe opportuno installare una segnaletica più idonea nella parte iniziale di via Galliano. Obbligo degli automobilisti sarà quello di rispettare i divieti onde evitare sanzioni.